16 persone in isolamento nel comune di Moio della Civitella. A comunicarlo attraverso una nota stampa è stato il sindaco Enrico Gnarra. Ci tengo a comunicarvi che attualmente nel nostro comune sono presenti 16 positivi al covid-19, tutti riconducibili alla squadra di calcio Gelbison, sottolinea il sindaco. Tra questi sei sono pauci sintomatici, lievi sintomi, e i restanti dieci sono totalmente asintomatici. Questi risultano già in isolamento da qualche giorno ed è stata ricostruita la catena dei contatti. Siamo anche lieti di comunicare che tutto lo staff tecnico della Gelbison Calcio è stato sottoposto a tampone ed è risultato negativo. Sebbene tutti i soggetti risultati positivi al covid-19 sono solo domiciliati presso il comune di Moio, ma sono residenti altrove, esprimiamo loro la nostra vicinanza e il nostro sostegno auspicando che possano guarire presto e ritornare alla vita sociale. Invito tutta la popolazione, ci tiene a precisare Gnarra, a mantenere atteggiamenti responsabili e ad indossare la mascherina, lavare spesso le mani e mantenere il distanziamento riducendo al minimo i contatti sociali. Mi auguro che la nostra comunità in queste occasioni ancora di più possa mostrarsi solidale e unita. Solo così potremo uscire rafforzati da questo terribile momento e presto ne usciremo insieme.